Lo riconoscete vero? Unicop Firenze, la più grande rete di supermercati della Toscana, con oltre 100 punti vendita. Immaginate di farne parte, di lavorare qui per... Eh, scusa. Eh? Come? Guarda che Unicop Firenze è molto più di un supermercato. Ah, beh, certo. È una grande impresa cooperativa, con 50 anni di storia, oltre un milione di soci e più di 8000 dipendenti. Ok, grazie del contributo, ma oggi è importante anche lavorare per qualcuno che si impegni nella sostenibilità. E infatti... Infatti, Unicop Firenze ha realizzato un intero bosco a Montopoli. Parliamo di oltre 3000 alberi, mica un orticello. Sì, ed è stata la prima grande impresa della distribuzione a togliere la plastica monouso dalle vendite. Ben due anni prima della direttiva europea. Lo sapevo. E che dire del sociale? Unicop Firenze... Con la fondazione Il Cuore Si Scioglie e collabora quotidianamente con oltre 200 associazioni del territorio, per aiutare chi è in difficoltà. E com'è per chi ci lavora dentro? Beh, sappiate che Unicop Firenze... Unicop Firenze investe molto nelle competenze dei suoi collaboratori. Solo nel 2022 sono state realizzate oltre 220.000 ore di formazione, molte di queste con i metodi innovativi. Ok, però lasciate... Unicop Firenze... Aprirà le porte per incontri, speech e colloqui mirati, il 14 e il 15 aprile, a Firenze. Com'era? Non potevi dirlo meglio. Ok, bene. Vado a iscrivermi.